Ieri Willy Monteiro Duarte avrebbe compiuto 23 anni, un evento organizzato dalla Regione Lazio ricorda questo eroe buono, Eleonora Fioretti. Willy Monteiro Duarte non va dimenticato, la sua morte violenta avvenuta nel 2020 durante un pestaggio nel tentativo di difendere un amico in difficoltà non deve restare in vana, per questo la Regione Lazio ha messo in campo azioni concrete in suo nome. Le istituzioni fanno squadra e cercano di dare una nuova narrazione per Willy, eroe buono che è stato ucciso soltanto perché ha difeso un amico in difficoltà. 400 mila euro andranno al comune di Colleferro, in particolare alla riqualificazione del giardino Angelo Vassallo che si trova nei pressi dell'uccisione, fondi che serviranno a realizzare una piazza a bianca. Le iniziative proposte puntano ai giovani, sensibilizzare i ragazzi contro ogni forma di violenza è questo lo scopo del premio Willy Monteiro Duarte istituito dalla Regione e rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori. Alla presentazione dei progetti collegata via Skype anche la sorella di Willy, Milena, nel suo messaggio parole di amore e speranza per la bambina che sta aspettando. Cercherò comunque di far presente anche a mia figlia di avere un Dio che c'è e ci sarà sempre e ad esempio.